Quante persone può portare una bicicletta? Non così tante, ma le idee, le idee, quelle sì, quelle infinite. E può trasportare? Quante persone può portare una bicicletta? Non così tante, ma una famiglia sì, se al mare gli viene voglia di andare. E chi la ferma, chi, chi la ferma più? Quanta allegria la domenica, presto, pizza rustica, frise e pomodori. Il cucinato di Cina, la borsa di paglia, si carica tutto, tutto quel che serve. Queste buona tre anni, sistemata sul telaio, dito ne ha sei, aggrappato al portafatti. E chi li ferma, chi, chi li ferma più? Non c'è nessuna fatica oggi da pedalare, gridano ai campi che li vedono sprecciare. Niente vanghe o zappi da trasportare, niente sacchi di terra oggi da livellare, niente verdura alle c'è da piazzare, oggi la famiglia corre al mare. E chi la ferma, chi, chi la ferma più? E' sotto quel cielo che promette già il mare, il mare che hanno visto sempre da lontano. Allungando il collo, aggrappati al campanile, la libertà è nei pedali, corre via così meno. Lo insegue la Cina con la sua di bicicletta, lo supera, si gira, poi ride, l'aspetta. E chi li ferma, chi li ferma più? Quante persone può portare una bicicletta? Non così tante, ma le idee, le idee quelle sì, quelle infinite ne può trasportare. Quanti sogni può portare una bicicletta? Non così tanti, ma più veri sì, quelli più concreti ti può trasportare. E chi li ferma, chi li ferma più? E chi li ferma, chi, chi li ferma più? E chi li ferma, chi, chi li ferma più? Oph Smart, chi, chi.